Bulldozer al lavoro per le strade di Novi di Modena. Si comincia a sgomberare qualche fabbricato abbattuto dopo che la macchina burocratica ha fatto il suo corso e gli abitanti hanno salvato il salvabile. I segni del terremoto di maggio sono ancora tutti lì ma qualcosa si muove e soprattutto la gente del posto chiede di non essere lasciata sola nella ricostruzione. Un gruppo alla gola perché sono cominciate le demolizioni però anche un sospiro di sollievo perché si comincia finalmente. Sì io l'ho sempre detto in questi due mesi le demolizioni sono un fatto necessario lo sappiamo però finora siamo riusciti a fare demolizioni con il consenso della proprietà che significa dare ai cittadini anche la possibilità come dire di metabolizzare questo questo strappo terribile perché poi demolire delle case è una cosa pesante quindi le persone devono anche avere la possibilità di rifletterci almeno alcune ore se non dei giorni e hanno convenuto con noi quindi hanno sottoscritto anche le liberatorie che sono poi un modo per dire siamo d'accordo che la nostra casa il nostro immobile deve essere demolito. Adesso abbiamo dei buchi però insomma poi ricostruiremo abbiamo i soldi per ricostruire quindi abbiamo del lavoro avanti se avanti. A più di due mesi dal terremoto il centro di Novi ancora presidiato da carabinieri e vigili del fuoco sembra un paese fantasma anche se la gente ha cominciato da subito a lavorare a darsi da fare dopo la solidarietà che continua cominciano ad arrivare anche le risposte del governo quelle che più contano. Oltre due mesi dal terremoto diciamo che le lacrime hanno lasciato il posto ad un piccolo sorriso visto anche le notizie che arrivano sindaco? Sì ieri abbiamo avuto la buona notizia a Bologna dal commissario Irrani della messa a disposizione con il voto già al senato al quale seguirà quello della Camera di 6 miliardi di euro per la ricostruzione dal primo gennaio 2013 questo significa dare gambe alla ricostruzione davvero con un meccanismo che fa sì che i cittadini non debbano anticipare soldi perché la gestione sarà per la parte istruttoria delle pratiche quindi per arrivare alla definizione degli indenizi ai comuni mentre per la parte economica verrà gestita attraverso un accordo tra cassa depositi e prestiti regioni e banche che pagheranno a stati d'avanzamento dei lavori le imprese che vanno a lavorare quindi tutto lavoro regolare controllo antiriciclaggio delle banche quindi un controllo anche sulla legalità che non è poco perché nella ricostruzione bisogna fare molta attenzione a che tutto venga fatto legalmente Grazie